Il Borghese ha detto al Presidente così è stato richiamato anche un famoso film e certamente lo era e è bello anche che a rappresentarsi sia appunto a rappresentarci tutti noi magistrati e avvocati sia questo tipo di eroismo, non un uomo con le armi in pugno, non un uomo che si è reso valoroso in battaglia ma un uomo che non ha ucciso nessuno e che ha dimostrato il suo eroismo per i fini che tutti noi tendiamo a tutelare cioè quelli fini della giustizia e dei diritti delle persone con le armi che sono proprie di noi avvocati e dei magistrati e che noi utilizziamo ogni giorno in queste auree di giustizia. Sì, certamente nessuno di noi o pochissimi di noi sarebbe disposto a fare quello che ha fatto Ambrosoli cioè in nome di questa impossibile tutela dei diritti e della legalità dare la propria vita però gli eroi servono innanzitutto a indicare una strada tanto per usare una figura retorica la stella polare nessun navigatore l'ha mai raggiunta però per millenni ha indicato una strada ora per noi riflettere sulla figura di Ambrosoli in questo momento serve a darci l'idea della direzione in cui dobbiamo andare nella nostra professione. Mi piace pensare che in questa aula tra qualche settimana giureranno i giovani avvocati che iniziano questa bella professione e mi piace che lo facciano in un'aula dedicata a Ambrosoli.